Musica Allora se sono una giornata dedicata all'agrivoltaico, quale futuro abbiamo in Sicilia? Dobbiamo essere bravi a rispettare da un lato il territorio, consentire alle imprese, alle nostre imprese e incrementare le loro entrate attraverso l'agrivoltaico e fare in modo che le persone, le aziende continuino a fare il loro lavoro. Io sono per il rispetto al territorio, per il rispetto all'ambiente e sono anche per la valorizzazione energetica del nostro territorio. Una condizione solo pongo che si evitano assolutamente che ci siano grosse estensioni di territori che possono essere impegnati soltanto con il fotovoltaico perché la realizzazione di impianti agrivoltaico sono le soluzioni per consentire sempre la realizzazione del terreno e nel contempo fare energia. Per quanto riguarda invece i comuni, sentivo che lei ha un'iniziativa quasi pronta? Sì, l'iniziativa è quella delle comunità energetiche. Possono essere realizzate per un valore massimo di un megawatt, non hanno finalità di scopo, il sindaco si pone a capo di questa struttura che è una società che ovviamente viene realizzata proprio per venire in conto al tema della povertà energetica. Quindi cittadini, imprese e amministrazione comunale possono costituire questa realtà e determinare con l'impegno di appena 10-15 mila metri di terreno la realizzazione di questa opportunità. La Regione ha importanti risorse, circa 100 milioni, che metterà a disposizione di tutti coloro i quali vorranno realizzare questo strumento tecnico. Molte aree rurali, soprattutto delle aree interne, lamentano il fatto che mancano le cabine elettriche per poter fare la trasformazione e quindi non possono attivare. C'è un piano in questo senso? Abbiamo in questo senso sensibilizzato con forza terna che sta realizzando di qua al 2030 ben 3 miliardi e 200 milioni di investimenti e la sollecitazione che ho posto allora è stata quella che non bisogna realizzare soltanto l'autostrada per portare energia alle grandi industrie del nord ma occorre anche e soprattutto in considerazione del fatto che il nostro territorio presta il terreno e il sole, insomma anche lasciatemi lo dire, il clima, l'interesse è la realizzazione delle cosiddette cabine primarie. Dice bene lei, se non ci sono le cabine primarie è inutile fare impianti energetici. Gli impianti energetici hanno la possibilità di essere produttivi e soprattutto economicamente interessante per le imprese se le cabine primarie sono nei pressi dove vengono realizzate gli impianti. Portare l'energia per l'allaccio a 50 km non rende interessante più l'investimento. Onorevole, oggi è una giornata dedicata all'agrivoltaico e nella doppia posizione sua di membro dell'assemblea regionale ma anche come sindaco, come vedo un po' queste iniziative che sono state presentate? Intanto credo da sindaco che possa questa diciamo essere una via futura nel senso che dare una mano all'agricoltura con abbattimento di costi e nello stesso tempo generare energia credo che sia quello a cui dobbiamo in qualche maniera tendere. Sentendo questa mattina condivido molto di quello che ha detto l'assessore regionale l'onorevole Di Mauro però bisogna anche stare attenti perché questo deve essere anche un vantaggio per i nostri agricoltori, per il territorio, per i nostri concittadini. Abbiamo questo sole non dobbiamo e non possiamo permettere che venga portato fuori dalla nostra regione così come è capitato per l'acqua, così come è capitato tante volte quando abbiamo svenduto quello che la natura ci ha donato. Quindi questo secondo me è il primo punto da cui partire e per avere la consapevolezza totale. Poi è ovvio che a livello regionale ci sono una serie di passaggi che devono essere consumati e fatti l'assessore questa mattina ne ha annunciati alcuni e quello che è accaduto questa mattina a Cammarata credo che debba essere un modello da portare un po' non solo nella nostra provincia ma nella regione per fare conoscere iniziative e prospettive a quei cittadini, a quegli agricoltori, a quegli allevatori che magari non ne sono a conoscenza. Il corso dell'energia comincia ad essere davvero preoccupante nonostante tutto l'apporto economico che può dare lo Stato, quindi con riduzione, ma rappresenta una tappa fondamentale per il futuro. Esattamente, poter utilizzare il sole, ripeto ancora una volta, che è una risorsa naturale che abbiamo 365 giorni l'anno deve essere questa la chiave per aprire. È ovvio che poi ci sono una serie di strategie, io da sindaco dico, se ci sono stati dei bandi che hanno consentito per esempio ai comuni di poter fare le illuminazioni a led e questo sicuramente incide in un abbattimento della bolletta, poi ci sono le comunità energetiche abbiamo aderito, oggi si parla delle certe, questa è un'altra risorsa ed è bene che queste notizie vengano divulgate perché poi vanno a vantaggio dei cittadini e delle bollette che i cittadini pagano. L'Italia è una realtà ormai consolidata in Italia e abbiamo un investitore spagnolo che ha alle spalle un fondo di investimento molto importante che si chiama Iwerwood Group che investe nelle attività di sviluppo sostenibile. Come va l'attività in Sicilia? Avete già una buona programmazione? Avete già attivato alcune centrali? Noi siamo presenti ormai in Sicilia da diversi anni e stiamo portando avanti diversi progetti quasi il 30% dei nostri progetti è presente in Sicilia, quindi abbiamo ormai un portafoglio di progetti che supera il gigawatt di potenza per un totale di circa 30 impianti, 30 progetti nel territorio nazionale, di questi 30 progetti 10 sono presenti in Sicilia, quindi abbiamo già una presenza abbastanza consolidata, stiamo portando avanti delle attività anche a livello locale, i nostri partner principali sono i proprietari dei terreni, noi ci teniamo a consolidare questo rapporto con i proprietari e ci teniamo ovviamente anche a coinvolgere le istituzioni, da qui nasce proprio l'esigenza che in questo momento stiamo facendo di portare avanti una consolidata esperienza con il territorio e di coinvolgere oltre ai proprietari le istituzioni sia a livello locale che a livello regionale. Ma la logica qual è? Come vi promette? Avete un rapporto con l'imprenditore direttamente? Che tipo di vantaggi può avere? Noi abbiamo un rapporto diretto con l'imprenditore, sicuramente non abbiamo degli intermediari, ci muoviamo in autonomia, andiamo direttamente sul territorio, quindi ci mettiamo direttamente la faccia e di solito quello che facciamo è trovare un accordo di totale collaborazione con l'imprenditore e con il proprietario che poi diventa anche un nostro partner nei nostri progetti agrovoltaici. Noi ovviamente siamo un produttore di energia ma dovendo sviluppare degli impianti che sono anche produzione di parte agricola abbiamo necessità di trovare sul territorio anche chi collabora con noi per la parte agronomica del progetto.